Il Stato invece ha studiato, ideato un modo molto significativo di festeggiare San Valentino scendendo in piazza contro la violenza sulle donne. Questo non è amore il titolo della manifestazione. Sergio Di Vincenzo. Anche quest'anno, nel giorno di San Valentino, la Polizia di Stato di Serni è scesa in campo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla violenza di genere. In piazza Celestino V, un'equip composta da specialisti della Polizia Giudiziaria della Questura, psicologi e operatori del Centro Ascolto di Rionero Sannitico, ha incontrato i cittadini per informarli. Duplice l'obiettivo dell'iniziativa. Da un lato si punta a fare prevenzione, dall'altro si offre un aiuto concreto alle vittime della violenza. Possono infatti ricevere consigli o chiarimenti o denunciare minacce e abusi in qualunque momento, con la certezza che sarà garantita a loro la massima riservatezza. Siamo disponibili per tutti coloro che vogliono avere informazioni, che vi è personale preparato, che può dare ottimi consigli e informazioni a riguardo. L'ufficio denuncia della Questura darà le prime informazioni e dirà quali sono i presupposti necessari per poter anche chiedere un provvedimento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza qualora si sente perseguitato oppure è vittima di atti persecutori da parte di un partner oppure un ex partner all'interno familiare eccetera. Aiutare le vittime non è tuttavia facile. Spesso hanno paura di denunciare oppure sottovalutano alcuni segnali. In altri casi si arriva addirittura a giustificare gli autori delle violenze. Non avere timori o imbarazzo nel chiedere aiuto a un esperto. Troppo spesso si sentono frasi quali è stato solo uno schiaffetto, forse me la sono andata a cercare, forse quelle botte, quei maltrattamenti li merito, è colpa mia. Ecco, credo che sia necessario proprio utilizzare un altro lessico e aiutare le persone a far comprendere che questi comportamenti non sono normali. anche perché molto spesso assistono alla violenza di madri, di donne, anche i figli che quindi sono sottoposti a una forma di abuso che viene chiamata violenza assistita che è una violenza più subdola. Questi comportamenti poi vengono un po' interiorizzati e anche normalizzati per cui è importante interrompere il circuito della violenza e rivolgersi a centri specialistici e a esperti. Grazie.